Nonostante Cardesio per descrivere lo spazio abbia inventato i tre assi cartesiani che si estendono all'infinito, potremmo dire che lo spazio architettonico pesa, nel senso che la pietra pesa e dobbiamo scaricare il peso a terra, è abitato, per cui nasce come protezione a livello individuale nella stanza e a livello collettivo nella città. Per cui noi architetti ci occupiamo di uno spazio reale, pesante, faticoso, difficile da costruire e specialmente che permane molto tempo dopo che il suo programma è morto. Noi viviamo in città che non abbiamo inventato noi. Questo dato secondo me è molto importante in rapporto invece alla estrema velocità con cui oggi lo spazio si muove. Tutti noi abbiamo l'esperienza di spazi virtuali molto più veloci che interagiscono con lo spazio reale, per cui l'immanenza dell'architettura, la sua pesantezza, ma anche il suo grado di confort, diciamo l'abitudine che noi abbiamo con gli spazi che conosciamo, interagiscono con dei neologismi spaziali, i centri commerciali, i treni ad alta velocità, formando un nuovo territorio ibrido. Questo problema in Italia è particolare perché forse è uno dei luoghi più stratificati del mondo. Di questo ci occupiamo e essere in una città come Sarzana, che ha la struttura della città antica italiana, ma è attraversata in questo momento da utenti e pensieri che non sono i suoi cittadini abituali simula un po' questa condizione. Vogliamo guardare lontano ma anche incontrarci al bar. Forse il fascino di questi festival è quello di mettere insieme fisicamente, potere quasi dialogare al tavolo di un bar con una persona che invece hai letto. Prima ho incontrato Di Freddi, che è il mio idolo assoluto, e l'ho fermato, quasi volevo farmi fare l'autografo. Vederlo dal vero è anche un'emozione per me, per cui trovo bellissima questa concentrazione spaziale di pensieri molto lontani tra di loro, che diventano per un attimo vicini.